BOOM! Greetings to all from SoundSeam's family! Petrae e Jitsu sono pronti per la seconda edizione del Bababoom Festival a BigFestival.com Remember this? L'estate sta arrivando! La bella gente sta arrivando! Il Bababoom sta arrivando! SoundSeam sta arrivando! Jitsu, tell him! 10-14 Luglio, Marina Palmezzo è fermo! Bababoom Festival! I'm sure you will be there, people! Come on, you know me? SoundSeam si mi ridi, film my shop, everything there! You know? BLOOD!